Ben ritrovati a Supergolli, adesso direi di andare ad analizzare quella che sarà sicuramente la gara di domani importante ma soprattutto di andare ad analizzare in direzione del Torino e non solo quelli che al momento sono i super top e i super flop secondo la nostra redazione ma anche secondo il vostro punto di vista. Anzi io vi dico anche di prenotare le vostre telefonate all'angolo del tifoso al numero 081 014 5948 perché fra poco avrete la possibilità di dire la vostra. Dunque andiamo col primo top della settimana ma in realtà colui che ad oggi è considerato l'uomo in più del Napoli. Tanti commenti positivi stanno piovendo anche questa sera veramente tanti commenti positivi per lui ovvero Kvaraskelia. Che cosa può fare la differenza oggi dell'uomo in più del Napoli secondo te Fabiana? Intanto vediamo i numeri in gara e vediamo anche gli expected goals, questo nuovo modus operandi per poter analizzare il singolo calciatore. Segna, fa assist, crea rigori, fa munire la gente quindi è pericoloso, lui è proprio pericoloso, c'è l'aggettivo suo e non sai mai cosa può fare, dove può andare. E' imprevedibile ma la sua imprevedibilità sicuramente permette di avere delle aspettative piuttosto alte ed ampie e a questo punto io ti chiedo in cosa potrà migliorare e se può migliorare a questo punto. Sicuramente magari nella gestione dei momenti perché le partite sono fatte di momenti, ci sono dei momenti dove magari è meglio tenere la palla, è meglio prendere un fallo piuttosto che rischiare di saltare l'uomo o comunque rischiare di lasciare la palla agli avversari. Quindi imparasse quei momenti sarebbe un giocatore perfetto. Non è un caso e poi non ne ha mai finita una fino adesso perché proprio la gestione dei momenti anche secondo Spalletti evidentemente gli manca. è uno che poi si accende anche un po' a intermittenza. Ci sono dei momenti in cui ti sembra che lui non sia in partita, poi magari fa tre giocate consecutive. Probabilmente sì, questo è un aspetto che può migliorare, può migliorare anche magari qualche volta nel venire a legare un po' di più la squadra. Gli piace così tanto isolarsi nell'uno contro uno e magari non tante volte viene a dare una soluzione anche dentro il campo. Insigne te lo trovavi tante volte dentro il campo, a lui piace più calpestare la linea laterale, però onestamente fino adesso impatto devastante. Possiamo dire che di certo ad oggi Varaskelia è la vera stella del Napoli e tra l'altro si è insinuato appunto nella squadra del Napoli in un momento non facile perché è andato a sostituire comunque, utilizzando le parole anche un po' di Enzo, un senatore, Insigne nel ruolo ma anche nel modus agendi. Trovando sicuramente poi ad oggi ampi consensi da parte di tutti. È la stella del campionato per me fino a questo momento perché era difficile immaginare che un giocatore che venisse dalla Dinamo Batumi avesse un impatto di questo tipo. Vuol dire anche che magari il calcio italiano non è più quello di un tempo dove facevi un po' fatica, ha fatto fatica a Thierry Henry nel calcio italiano, voglio dire, era un calcio italiano diverso. Però c'ha una forza, uno strappo e c'ha tante giocate. Secondo me ancora qualche giocata... Ancora da conoscere, da scoprire, vero? Sì, è tantissimo. C'ha una controsterzata, ogni tanto sembra che lui rientra sul destro, poi un'altra volta prende e sterza di nuovo e va... Permettimi, questo non potrebbe essere il punto di forza anche del Napoli, proprio l'imprevedibilità. Perché molte volte, ecco, se Juric studia il singolo calciatore, l'imprevedibilità del calciatore, in questo caso di Quaraschelia, potrebbe fare la differenza e quindi disarmare la squadra avversaria. Sì, ma domani è la partita dove devi uscire dallo schema domani e quindi lui è il giocatore per uscire dagli schemi. A Napoli c'è tante. Ma vedi, in tanti c'è, ci siamo lamentati, i passaggetti, il gioco orizzontale, il gioco dal basso. Qua finalmente trovi uno anche un po' romantico, come il calcio di una volta. Come piace a lui, Enzo. Bravo, esatto, quindi questo è molto bello, anche perché venivi da un periodo... No, no, aspettiamo, lasciamo rispondere, però che la domanda è pertinente. Sennò poi dice, solo per chi d'accordo con me. È romantico? Non so, non lo conosco sotto questa sfera. Non è una nota positiva. Una cosa è il calcio, una cosa. Ma se è romantico nella vita in generale. Sono romantico e mi piace il calcio romantico, come piace anche a Franco di Stasio. Però non è arrivata questa cosa, però non è arrivata. Se lei non ha dato una risposta. Non l'avevo capotata. Parliamo di calcio. Non è arrivata a lei. Ma lei è d'accordo? Non l'ho mai capotata. Non l'ha conto. È un nuovo format, non è perso il ruolo, scusatemi. Stasera che non c'è Renato sono, diciamo, romantico. Romantico. Altrimenti mi devo scagliare contro. E per questo allora non l'avevo mai capotato? Perché c'era sempre Renato. Capito, ha fatto anche la rima, vedi. Abbiamo fatto questo romanticismo non propriamente puro. Ecco, ancora un po' alcelato, probabilmente malcelato. È menzionato Renato. In realtà stiamo parlando, per l'appunto di Guavara Schella, laddove non fa sentire la mancanza appunto di insigne. E questo, come la vogliamo leggere? Aveva ragione Renato. Allora, no, però vedi, noi venivamo da un'estate dove, al di là del fatto pro contro De Laurentiis, a 16 e tutto il resto, c'era proprio stato un distacco dei tifosi dalla squadra anche, non solo dalla società, perché tu non vedi i motivi di interesse. Quando trovi non solo uno bravo che ti fa i gol e gli assist, ma fa anche un gioco che ti appassiona, cioè, secondo me, tu torni allo stadio non solo perché vedi un Napoli che vince, ma anche perché vedi un Napoli che ti diverte. E questo Guavara Schella lo ha fatto subito, ancora prima che poi venissero Raspadori, Simeone e quant'altro. Ora, il punto, ecco, singolo, induttivo, sicuramente questo, però noi abbiamo bisogno di un ampio respiro, di dare anche al nostro spettatore un'immagine molto più ampia. Sto firmandoci però sul calciatore singolo, quindi su Guavara Schella. Schella, ti chiedo a questo punto, Gennaro, al di là dei numeri, ecco, come è cambiato il gioco tattico della squadra del Napoli con lui? Beh, l'anno scorso principalmente il Napoli adottava un 4-2-3-1, quindi già nel sistema è cambiato qualcosa. Questo ti permette agli esterni alti, in questo caso Guavara Schella e Politano, di avere meno, diciamo, meno campo da attaccare, ovviamente, e quindi non devi coprire fino al basso, quindi avere proprio più lucidità in alcune zone del campo dove poi riesci ad esaltare le proprie qualità, quella del dribbling, quello di saltare l'uomo, lo dicevamo di Guavara Schella, che fino adesso praticamente ha quasi sempre saltato l'uomo e ha creato delle difficoltà. Secondo me a breve maturerà anche nell'essere efficace anche solo con un dribbling. certe volte lui esagera, magari ancora non sa bene, parliamo di un 2001, quindi... Bisognerà dosare, quindi... Assolutamente, anche lui essere più efficace... No, no! La seconda voce! No, gli ho scontato ragione, no! Devi imparare a dosare, come diceva, ecco, a gestire, diceva prima Fabiano. Ebbè, ma è normale, è giovane, quindi corre in maniera differente rispetto a uno che ha un'età più matura. Un'altra questione che per l'appunto infiamma un po' in pubblico, no? Caso Meret, che ecco, rinnovato il contratto e con un'estate con la valigia in mano, no? Doveva andare via e poi inaspettatamente prestazioni altissime, ecco, di alto livello. Ti aspettavi anche questo cambiamento, questa rivoluzione e se sì, da cosa è di peso secondo te? Dalla tranquillità, dalla serenità, del non essere messo, non essere valutato ogni volta. Cioè, ora gioca, sa che è lui il portiere titolare ed è molto più tranquillo, ma questo lo noti anche in campo. Cioè, la sua presenza ora si sente. Prima si vedeva che era timoroso, il portiere timoroso qualche cavolata la fa, anche se mi aspetto comunque un qualcosa, perché durante l'anno lui, soprattutto, se farà qualche errore, è lì che voglio vedere come reagisce. Però, scusatemi, Meret... Possiamo vedere, chiedo scusa, un attimino i numeri in grafica, ecco, proprio di Meret, prego Enzo. Perché faceva errori? Perché non gli veniva data continuità, cioè lui non è che ha fatto continuamente errori e quindi dipendeva da lui. Se lui avesse avuto continuità, gliel'avessero consentita, probabilmente non gli avrebbe fatto gli errori, perché adesso che gli viene data fiducia non li sta facendo. Quindi, io non penso che sia una cosa indipendente da lui. Io sfido chiunque a non sentire la fiducia a fare ottime prestazioni. Lui ha un carattere anche diverso rispetto a un napoletano. È un po' più introverso. È molto, molto, quindi è del nord. È un po' più riservato. Molto più timido. Non ci dimentichiamo un po' le parole di Spalletta inizio o precampionato, dove effettivamente l'aveva tagliato fuori. Immaginate un portiere che si allena e non si sente parte integrante del progetto. Poi effettivamente si è delineato tutto perché non è venuto uno, non è venuto altro, si è fatto una scelta diversa. Ma voluta o non voluta, attualmente lui è un portiere dove sta dimostrando il proprio valore. Tutto questo dovuto alla fiducia. Però se fosse stato un problema di sua incapacità a gestire la sfiducia, allora anche in questo caso, perché per caso si è trovato a rimanere al Napoli, non avrebbe dovuto... Guarda, non lo so. Lui diciamo che del suo ce l'ha messo, perché io anche io... Ma per gli infortuni però... Ma anche in periodo di ritiro, anche negli allenamenti faceva degli errori banali, perché sentiva addosso questo peso. E sentiva fortissimo alla pressione. Lui con la Dana a Castel di Sangro... Sì, ha fatto un errore incredibile. Ma anche in allenamento una volta ha fatto un errore banalissimo. Il problema è quello, è vedere poi come reagisce, perché non è tanto l'errore suo, ma che gli occhi puntati ce l'ha, la gente se l'aspetta... Io credo che adesso... E sono tutti pronti a criticare. Però da Perone poi, quando ha capito che appunto, volente o nolente, in questo caso fosse più nolente, il Napoli non riusciva a prendere qualcun altro, si è sentito per la prima volta più gonfio. Non so se vi è traspicato. Sì, secondo me adesso devo dimostrare, avrà pensato. Lo vedi anche proprio a livello posturale diverso. E poi devo dire che si è preso anche fino a questo momento qualche rischio in meno con i piedi. magari sotto consiglio dell'allenatore, magari perché lui ha sentito... E' meno estetico, meno estetico ma più pratico. E' normale che non è un portiere moderno dove è molto bravo con i piedi. E' più bravo a parare... Sono molto bravo e la busta via va bene. Ma non ti cambia la vita. Però vorrei sapere se fosse solo una questione di fiducia, come dice Gennaro, o il fatto che noi abbiamo sempre parlato di Ospina-Meret, c'è questa dicotomia presente, probabilmente limitante, per lo stesso Meret. Ad oggi, al di là della fiducia, lui ha la possibilità di far palesare, di mettere in luce quelle che sono le sue reali qualità. Sì, sì, no. Le due cose, se è stata perfetta, vanno insieme. Sapere di avere dietro Silvio non è come sapere di avere eventualmente dietro Spina. adesso Meret deve essere supportato da un briciolo di fortuna, nel senso che appunto il primo errore più tardi arriva, perché tanto fisiologicamente arriva per tutti i portieri, meglio è, e deve essere supportato dalla condizione fisica. Perché comunque lui ha pagato tanto anche, a ragionanza, gli infortuni che lo hanno tempestato. E proprio questo aspetto aveva fatto venire qualche dubbio al Napoli. Cioè il Napoli non ha mai avuto dubbi sulle qualità di Meret, però sulla sua tenuta fisica e mentale ovviamente sì. Se su quella mentale Meret è stato bravissimo nel tenere comunque botta a un'estate particolare, dal punto di vista fisico tocchiamo Ferro perché lui merita di fare una stagione da titolare, come non l'ha mai fatta neanche a Udine. Lui prima di arrivare a Napoli già si era infortunato anche a Udine. È un portiere fragile perché non è un portiere molto strutturato, molto filiforme. e quindi dobbiamo aspettare... Esatto, oggi forse è davvero pronto a di là della gestione personale o anche quella restituita dagli allenatori. È diventato papà anche lui, quindi sì. Sicuramente sì. Altro top che ha scelto la nostra redazione per questo periodo del Napoli è Anghissà. Tra l'altro lo abbiamo menzionato anche prima. Se possiamo vedere i numeri in grafica, ecco il portiere è il top, però abbiamo anche Anghissà. Ora, di là di tutti i singoli, lui è davvero la rinascita rinunzionale di Napoli. Per me è un giocatore... ...rappresentare la rinascita. È particolare, è difficile trovarne altri con le sue caratteristiche. È onnipresente. Cioè in fase offensiva te lo ritrovi, in fase di interdizione te lo ritrovi, in fase di gioco comunque percentuale passaggio 87%. Una certa volta sembra Emerson. Sai quando Emerson si mangiava il campo con queste zampate? Io ripeto un po' quello che ho detto prima. A me mi ha sorpreso in maniera positiva. Quindi ha una capacità di adattarsi alla situazione o al sistema che gli viene dettato. Lui è bravo anche a giocare a due a centrocampo. E proprio questo lo aspetta veramente il fatto che si è in coppia con l'Obotka e rappresentano ad oggi le coppie più forti di Serie A diventa poi determinante anche questo cioè il centrocampo per il Napoli diventa anche oggi nota di merito. Io credo che i compagni di Reparte esaltino le qualità del ragazzo. Vedi anche Zelischi che secondo me ha fatto un inizio molto molto positivo. quindi avere un giocatore come l'Obotka ti aiuta molto perché magari ti toglie qualche peso qualche responsabilità nella fase di impostazione. È davvero tra le coppie più forti di Serie A in questo momento secondo voi? Ma il Napoli rimane uno dei centrocampi più forti d'Europa. Come centrocampo è molto forte il Napoli. Veramente molto forte. Cioè fa tutto. Fa tutto bene. Soprattutto se allarghi non solo ai due diciamo, ma a tutti e quattro diciamo nel complesso. Bene, chi saranno invece i Superflop? Lo scopriamo fra pochissimo subito dopo la pubblicità. Restate con Supergirl.